Avis, Ambulatorio Popolare e ASL BAT insieme a Barletta per lanciare un messaggio chiaro. Il sangue è uguale per tutti e rappresenta il più grande strumento di integrazione esistente sulla Terra. È nata con questo spirito la grande raccolta di sangue realizzata sul corso Vittorio Emanuele a bordo dell'auto emotica dell'ASL BT. Tanti gli obiettivi dell'evento, a partire da quelli sociali e finalizzati all'integrazione. La donazione infatti fa rima con integrazione. La questione della donazione, la questione del donare il sangue ed aiutare persone che si trovano in difficoltà, specialmente in questo periodo in cui scarseggia, è un segnale molto importante. Infatti abbiamo invitato a donare persone di diversa estrazione sociale, di diverse etnie, perché qui hanno donato anche non cittadini, non italiani, hanno donato pakistani, hanno donato brasiliani, persone assolutamente diverse da quelle che si possono normalmente immaginare. Ed è questo il messaggio, perché la donazione è importante, perché mescola il sangue, lo mescola veramente, mescola anche le vite. Questo è il segnale che vogliamo lanciare oggi da questa piazza, da questo corso, un segnale di integrazione sociale, un segnale di inclusione sociale. Siamo tutti uguali, è il sangue rosso per tutti. Quella realizzata con la collaborazione dell'Ambulatorio Popolare non sarà l'unica raccolta promossa dall'Avis durante l'estate. Tante saranno le attività dell'associazione in una stagione nella quale da sempre il sangue scarseggia. Andremo il 17 presso la caserma Luglio, la caserma Stella per la donazione dei militari. Però il 16 e il 18 saremo in piazza per raccogliere unità di sangue. Inoltre il 4, 5 e 6 luglio ci sarà una manifestazione regionale a Barletta dal titolo Emozioniamoci. E quindi l'Avis collaborerà per la sensibilizzazione dei cittadini alla donazione del sangue. Non solo, ma come ogni anno l'Avis nel mese di luglio e agosto darà un chilo di gelato a tutti coloro che verranno a donare. L'importanza di donare sangue in estate durante tutto il corso dell'anno è ben illustrata dal punto di vista medico dal dottor Paolo Pedico, dirigente del sit di Barletta. La donazione del sangue ovviamente è uno degli atti medici più elevati che una popolazione può fare nei confronti della necessità di salute della nostra popolazione, delle popolazioni in generale. Tenete presente che il sangue non appartiene a nessuna ASL in particolar modo, né a nessun ospedale ovviamente. Grazie alle associazioni del territorio la nostra ASL è ad alti livelli di produzione di emoderivati, oltre che quindi di emazie concentrate, anche di plasma, piastrine e quant'altro possa servire. Aiutateci perché possiamo così aiutare tutti gli altri.